musica 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 oh oh quella sta scappata stiamo anche in fin di vita dovremmo meditare forse speriamo non ci facciano combattere madonna ma stiamo ma stiamo sul castello no? ma guarda che posti incantevoli eh una roba assurda oh qua ma se la faggote sta mappa così de fredda eh e chiappette a la duchessa quindi come si infrangono le regole musica ma buona idea separarci con il mostro in giro corno dell'unicorno e pesce dorato corno dell'unicorno e pesce dorato ok ok l'unicorno come lo so è vero ma l'unicorno l'unicorno e l'unicorno contiene cose che aiutano a trovare Milton una volta che hai l'unicorno e l'unicorno si ma ce l'aveva cominciata così ok iniziamo qual'è quella più vicina no non si faceva così non si faceva così c'era un modo per cambiare missione ok prima questa allora da dove posso iniziare cioè da dove si può scendere da qui da che lavoro che hanno fatto ragazzi di realizzazione no si sta a fa notte proprio adesso ma potremmo meditare per caso iniziare circa la mattina ok meglio molto meglio che di notte non è il massimo ragazzi ragazzi io sto io vengo a stare fatto ma guardate ragazzi guardate scrish tutto qua porco cane tiè e stiamo su console pensate su pc pensate su un pc di fascia alta ragazzi che roba altrimenti dovremmo usare il segno ok ok si ma io devo mettere axi perchè l'unicorno lo blocchi con axi sicuramente se avvesse un cavallo se avvesse un cavallo unicorno non 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 ci saremmo in questo prevedimento, amore, signora. Sei ancora una virgina? Hai chiesto di avere questa conversazione di nuovo? Qui e ora? Hush, oi tu saranno la bambina. Ci proviamo a provare. Noi, ragazzi, dovrei perdere il tuo divertimento. Chi è quello? Usa il segno AXI No, l'ha fatto scavare? Sei il mongoloide Ma se gli faccio così Eh beh Ssh Easy now Tutto sta digitando quando bastava usare il segno Ma vaffanculo, va Ah ma dai, fermate un po' Il potere Jedi è fortissimo ragazzi E ora andiamo da Pesciolone rosso Mi dispiace per loro Beh il nostro potere Jedi è troppo forte Oh, qua Sto andando bene, sto andando Sì, sicuramente Quindi dove sta? Però ci devono andare più in là Quindi Sperate di non fare il cazzo Immergi Non era questo Là vedo qualcos'altro Cos'è la giunta? Aspetta, intanto ho quasi fatto Pieno dei dolci Ma niente pesce d'orba adesso Aspetta Immersione rapida Ma dove hanno messo sto pesce d'oro? Forse era questo Speriamo No 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 Solo quello Penso Non è che ne vedo tanti altri Illuminati No Cazzo Cazzo This moon is heavily courts of trace in my domain I await that moment of grace when a soul of good or ill repute brings me a gift fitting tribute un po' cattivo è un po' cattivo però vabbè si ciao ciao lamentate no ma va sbrigamoci abbiamo incontrato la duchessa che già mi stanno stufando questi belli questi giochi di corte molto carini non so se sono aperti su lei ricchi o a tutto il popolo ragazzi ma guardate che bello è ispiratissimo sto lo di alzino porco cane dove sta la duchessa qua è un dedalo di vie enormi quanti che sonano che ha fatto i pelati signora duchessa non so se faccio 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 il mostro di più necessità o che ci spiegacerebbe e ci sono le regole ma ci sono le regole io sono le regole Geralt ho una chiave e una chiave ho un altro dimmi la tua chi ha scritto questo inizio come grone che vuol dire che vuol dire inizio con la S soffitta o serra un verale senza corpo che vuol dire ragazzi RR ecco la serra congiunzione E serra sento che per tradurla sta roba proprio come quella che abbiamo trovato l'uomo è allora andiamo E gli è toccata la detta eh, zossone, mandrillone. Troppo tardi, è morto, lo sapevamo. È in forma umana qui, quindi può trasformarsi. Guardate le cartiglie che ha, ragazzi. Oh mio Dio. Ma sei matto? Oh! Comunque con questo vestito il gioco è tutto più bello, eh. Ci sta a pennello. Fottotamente a pennello. Eccolo qui. Eccolo. Cosa? Ma ti puoi mantenere. Ho un nuovo. Non ti conosco. Ti ha fatto nulla. Ancora, prima ti ha preso un bruxo che mi ha amato. Ora ti ha persociuto. Perché? Hai matuto 4 persone inocenti, almeno. E tu? Quanti inocenti hai scoperto? Plenty. Ancora più di giusti, però. Tu sei prossimo. Penso non. Vedete? Ho ancora qualcosa di fare. Più più muri? Solo uno. Non conto i tuoi. A me? Oddio! Non mi lascio te matare di nuovo. Non gli facciamo un cazzo, ragazzi. Ah, ho messo il fuoco. È debolo del fuoco, ragazzi. Per sbaglio ho messo il fuoco e ha funzionato. Eh sì, ha molta paura del fuoco. Potremmo anche farcela facilmente, stavolta. Una volta. Ciao. Perfettura l'ho messo il fuoco per sbaglio. Mi faceva tanto male. Che cazzo è? Che cazzo è? Ma chi è questo? Oddio, ragazzi. Cosa abbiamo visto? Sì, Geralt. Sono io. Chi io? Non lo conosciamo. Eh ragazzi, non me lo ricordo. Di qui c'è uno che non l'ho giocato, quindi. Ciao. andiamo su subito al dunque gli altri mi sembrano futili Detlaf Detlaf è più bestiale più bestiale ha detto in inglese quindi in vostra opinione quali sono i ragioni? Precisamente quello che voglio sapere e poi lo farò conoscere l'errore di loro ma non c'è ho molto credito in questo ma anche in quanto riguarda le contrarie voi due sono diversi hai due nobili ma hai due nobili ma hai due nobili quando le circostanze forse tu anche ricordi l'anno 964 questo era tre anni fa l'errore di rivea liria e spalla le donne e i bambini erano morti i loro morti e i morti i morti liria ho capito quasi 200 e poi si tratta a un poacher che si tratta con un poacher di un poacher si tratta a Detlaf e poi si tratta a un poacher dormito e si tratta il corpo il corpo quindi non è così cattivo perché Detlaf ha ucciso il mostro ha vampires rarely help humans must have had his own agenda hunting the beast you air he slew it for one reason alone the monster killed the lad who once in the street had offered Detlaf an apple expecting nothing terribly noble of him you do not have a monopoly on altruism my friend Vilgefort melted my body Detlaf found what was left as per our codex he had a choice to leave me where I was or to care for me and nurture my remains he chose the latter regenerated me at no small expense in his own blood do you know what that means to a vampire the gravity of the endeavor probably same thing it means to a human you owe him your life much more than that the act itself made as blood brethren a bond so strong humans cannot even imagine which is why I know something ill is afoot always had an overdeveloped sense of empathy each vampire has a unique talent one they hone over centuries is precisely what rend us so difficult to classify Decloth's Trump is his own his tribal propensity in point of fact he prefers the company of lesser vampires and shunza of humans if he walks among you killing egregiously it can only mean something is upsetting he can't say what's wrong 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 Decloth doesn't understand men their world its rules its conventions he's naive in a sense he doesn't comprehend your games knows not what it means to lie deceive suggesting he's maladjusted inventing his rage I'm suggesting maladjustment can at times but is it the case this time I cannot say but intend to find out interessante gotta find him before something upsets him even more and all but clear as a wash with blood well we share a course then just like the old days not entirely I mean when I find him you know I know you've a contract on his head yet your true task is to stop the beast not necessarily to kill the people depending on what impression it will be sure let us find him by the time we do I hope I'll have convinced you that Decloth is no monster fine alright already but for now evidence is stacking up against him vediamo capiamo i i i i Quindi i vampiri diventano fumo. Lui l'ha visto. Ok ragazzi, un mostro, un vampiro. Si è incavolato. Non sappiamo per quale motivo, però c'era con questo regno, con i cavalieri di questo regno. Cosa può essere successo? Poi lui, hanno detto, è un vampiro che preferisce stare con i vampiri che in mezzo agli umani. Quindi non è che ha a che fare con questioni interne o qualcosa del genere del regno. Quindi non saprei, è un bel mistero. Abbiamo incontrato un personaggio. Chiedo a voi ragazzi, se avete letto i libri o giocato il primo The Witcher, se compare in uno di questi media nel libro, nel primo videogioco. E niente, noi ci possiamo salutare qui e ci vediamo nel prossimo episodio per andare a incontrare questo Regis al cimitero. Ragazzi, ciao ciao!